Buonasera a tutti e benvenuti a Motorpad TV, l'appuntamento settimanale con il mondo dei motori. Oggi parliamo di Peugeot, parliamo di Peugeot e di tutte le novità che sono in arrivo in questa parte finale dell'anno e soprattutto della strategia che la Casa Francese sta affrontando nel tema dell'elettrificazione e qui le novità sono davvero tante. A parlare con me in studio di tutti questi cambiamenti che sta portando la Casa del Leone c'è Thierry Lonziano, direttore di Peugeot Italia. Grazie Thierry di essere con noi intanto. Allora, ho detto tante novità in questa parte finale e soprattutto Peugeot è sempre più un marchio centrale all'interno del grande gruppo Stellantis. Che ruolo ha Peugeot in questo gruppo così importante? Allora, Peugeot ha un ruolo molto importante perché storicamente è un marchio più anziano all'interno di Stellantis. Pensiamo che siamo in Italia da oltre 130 anni. La prima auto in assoluta ad essere stata vista sulla strada italiana è stata una Peugeot tipo 3 nel 1893. Quindi abbiamo appena festeggiato 130 anni. Poi c'è un'importanza in termini di volume perché siamo in effetti il secondo marchio di Stellantis dopo Fiat in Italia e venderemo quest'anno circa 100.000 automobili. Quindi un ruolo molto importante in termini di storia, in termini di volume e anche in termini di tecnologia perché Peugeot ha deciso di fare un cambio molto importante passando al 100% elettrico da qua al 2030. Ecco, il tema dell'elettrificazione è estremamente importante però lo seguite con diverse strategie. Ecco, su quali pilastri, su quali strade vi state incamminando? Allora, in Peugeot la strategia è di avere una versione elettrica su tutti i nostri modelli. Quindi oggi il cliente ha la scelta su una 208 per esempio, o 2.800, 3.800, 3.800, tra le varie versioni. Le versioni tradizionali endotermiche tipo benzina, diesel, le versioni mild hybrid, le versioni hybrid con la ricarica, con la spina, quindi plug in hybrid e anche una versione 100% elettrica. E la nostra strategia è di offrire l'insieme di queste motorizzazioni allo stesso costo, direi, mensile. Non lo stesso prezzo, però la stessa rata mensile. Per rendere semplice la scelta al cliente che in base a, diciamo, le sue possibilità, le sue aspettative, le sue bisogni in termini di autonomia, può scegliere la motorizzazione più conveniente. Questi cambiamenti hanno portato anche ad avere dei nuovi riferimenti per la casa. Avete parlato di tre valori, allure, emozione ed excellence. Che cosa significano su un'automobile? Allora, non sono parole buttate a casa. No, non sono parole buttate a casa perché, come dicevo prima, Peugeot è un marchio che esiste da tanti anni e questi sono i valori che guidano ogni progetto, ogni nuovo prodotto che presentiamo al mercato. L'allure è il design, l'eleganza, un design attrattivo, affascinante, sportivo, riconoscibile, con gli artigli, con le firme luminose, con un logo anche molto espressivo. Questo è l'allure, l'eleganza e il carattere. L'emozione e il piacere di guida. Guidare una Peugeot deve essere qualcosa di anche divertente, il lato fun-to-drive con l'i-cockpit in particolare, il volante piccolo, la maggevolezza, l'agilità, questo è molto importante per l'emozione e poi la tecnologia, l'eccellenza e la tecnologia. Basta pensare che sulla nuova 3008 arriviamo fino a 700 km di autonomia in elettrico quindi è l'eccellenza sempre essere avanti, pionieri anche in termini di tecnologia e di qualità. Ecco, 3008 ne parleremo poi subito dopo, ma prima parliamo della vettura che abbiamo in studio. È una E2008, la versione elettrica, ed è un po' tutte quelle caratteristiche che ci ha raccontato perché c'è un restyling, ci sono nuovi motori, ci sono nuovi interni. Non è stato un restyling, è stato un aggiornamento completo di tutta la vettura. Assolutamente, c'è tanto contenuto nuovo, sia all'esterno in termini di design, ancora più sportivo, aggressivo, ancora più Peugeot, forte carattere di questa E2008. Un'auto con proporzioni assolutamente nel cuore del mercato, di questo mercato B e SUV, quindi i SUV piccoli cittadini, che sono oggi il primo segmento in Italia. Quindi agli italiani piace questo segmento, anche all'interno novità in termini di servizio di infotainment, in termini di schermo, anche più grande, e sotto il cofano ovviamente novità in termini di tecnologia, perché offriamo una versione elettrica, oltre 400 km di autonomia, quindi anche qui maggior potenza, maggior autonomia e maggiore tecnologia. Quindi è un prodotto veramente migliorato su tutti gli aspetti. È importante avere un motore elettrico in questo segmento, metterlo su una carrozzeria completamente identica alle versioni termiche, è così importante averlo? Sì, è importante anche perché noi vogliamo dare la scelta al nostro cliente, non andare su un modello diverso per avere una versione elettrica. Il motore deve essere qualcosa di semplice da scegliere, non è semplice perché ovviamente è un passaggio per una prima volta in elettrico, però noi lo vogliamo rendere semplici senza dover scegliere tra un altro allestimento o un'altra carrozzeria per avere un motore elettrico. Sappiamo che andiamo verso l'elettrico, lo vogliamo rendere il più semplice possibile e avere più di 400 km di autonomia è importante perché c'è questa barriera un po' psicologica dei 400 km, i clienti vogliono più di 400 km di autonomia su un'auto elettrica. E soprattutto, visto che già siamo in tema di motori, è giusto anche parlare del nuovo motore mild hybrid che il 2008 presenta. Anche qui un bel passo in avanti, soprattutto sul contenimento dei consumi e delle emissioni. Sì, assolutamente, oltre il 15% di economia in termini di consumi, è tipo con il mild hybrid di Peugeot, in città guidare il 50% in modalità 100% elettrico. Quindi un'auto assolutamente conveniente, una motorizzazione che sarà presente su tutti i nostri modelli della gamma a partire da 208 e 2008. Ecco, però hai citato 208, giusto mi dai un aggancio perché anche 208 avrà le stesse novità che abbiamo visto su 2008. Quindi le due auto viaggiano su una strada comune. Sì, 208, ovviamente il segmento B di Peugeot, un'auto che presenta una nuova versione con nuove tecnologie, anche lì con una versione elettrica che arriva a oltre 410 km di autonomia, benzina, mild hybrid e per illustrare anche con un'offerta molto, direi, conveniente, 150 euro al mese qualsiasi la motorizzazione. Quindi uno può scegliere benzina, mild hybrid oppure 100% elettrico, sempre pagherà 150 euro al mese perché vogliamo rendere semplice e accessibile ogni motorizzazione ai nostri clienti. Bene, andiamo a vedere le prossime novità perché ce n'è una che è particolarmente interessante e sicuramente molto attesa sul mercato, è la 3008. Allora direi che è un cambiamento è poco perché qua troviamo una nuova carrozzeria, nuovi motori, una piattaforma che ne hai appena citato, una nuova piattaforma per la versione elettrica. Allora è una rivoluzione questo modello? Sì, è una rivoluzione, direi che ha l'obiettivo di sostituire l'attuale 3008 che è stato assolutamente un grande successo in casa Peugeot. Qualcosa di più di un grande successo direi. Un milione e 300 mila unità vendute in Europa, oltre 150 mila in Italia, veramente un grandissimo successo. E quindi con questa nuova 3008 è una fastback SUV, come si può vedere, con un design completamente rinnovato, come si dice, BIV nativo, cioè nasce elettrica, quindi con una nuovissima piattaforma del gruppo Stellantis che si chiama Stella Medium, che consente di avere un'autonomia fino a 700 chilometri di autonomia, due o quattro ruote motrici fino a 320 cavalli, quindi è un'auto 100% made in Europe, quindi è disegnata, prodotta. Ed è la prima auto del gruppo Stellantis a usare questa piattaforma, quindi il discorso dei pionieri di essere i primi va anche all'interno del gruppo, che sarete i primi ad usare questa nuova tecnologia. Sì, e lo facciamo con ovviamente 3008, che è uno dei prodotti più importanti sia del marchio Peugeot che del gruppo Stellantis. Mi ha colpito molto, della 3008, l'iCockpit, che lo continuate a chiamare iCockpit, ma è qualcosa di più, il panoramico iCockpit, tutto digitale per... Tutto digitale è impressionante. È molto grande. Infatti l'effetto wow, veramente l'emozione della nuova 3008, si deve vedere da fuori, e poi quando si entra e si sedia in una 3008, cioè deve essere anche... Deve essere uno spettacolo. Deve essere uno spettacolo con questo iCockpit, con questo schermo di 21 pollici, grande come un televisore, che rappresenta tutte le funzionalità, tutto ovviamente touchscreen, direi immersivo, con nuova tecnologia di connessione anche 100% wireless, con un effetto anche floating. Si vede qua che lo schermo, diciamo, sembra di essere in sospensione all'interno dell'auto. Ovviamente il Peugeot iCockpit, con sempre le volante piccole, quindi molto agile e molto divertente da guidare. Quindi le ricette di un Peugeot iCockpit che ormai compie dieci anni in Peugeot e che va ancora a un salto di generazione con la nuova 3008. E quando arriverà nei primi mesi del 2024? Quindi ormai è in arrivo? Assolutamente. Abbiamo aperto l'ordinabilità il 20 di novembre, quindi si può ordinare. Abbiamo comunicato anche il listino. E il lancio commerciale, quindi l'arrivo fisico delle auto, è previsto per il mese di aprile 2024, quindi fra qualche mese. Bene, quindi ormai ci siamo anche su questa vettura. Come avevo detto, tante le novità di Peugeot che vi abbiamo raccontato, 208, 2008, 3.800 che la stiamo vedendo in anteprima, ci sono novità anche sulla 308, non abbiamo avuto tempo di parlarne. Thierry, ti ringrazio e ti aspetto in studio perché ci saranno altre novità di cui parlare. Grazie ancora di essere qui e ci vedremo presto, immagino molto presto con altre novità. Grazie ancora di essere stato con noi. Grazie a tutti. Bene, per i nostri telespettatori qualche minuto di pausa e Motorpad torna subito dopo la pubblicità.